Ben trovati, nuovo appuntamento con l'ospite e oggi faremo un po' il punto sulle varie situazioni critiche che si registrano a Sciacca a seguito del maltempo che si è verificato soprattutto nello scorso mese di novembre. Lo facciamo con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Sciacca, Roberto Locicero, che ringrazio intanto per la disponibilità. Assessore, parlavo di tante situazioni critiche e però quello che ci preme di più è capire, passate alcune settimane, che notizie abbiamo dalla Regione, dallo Stato, è venuta anche la protezione civile nazionale, ad effettuare dei sopralluoghi perché poi tutto dipende dai fondi, se abbiamo i fondi riusciamo ad intervenire altrimenti la situazione poi diventa complicata. Ci sono novità? Allora, partiamo intanto nel ricostruire tutto quello che è accaduto molto brevemente. Noi dal 10 all'11 di novembre abbiamo purtroppo subito una violenta ondata di maltempo con una precipitazione estrema. Consideri che nell'arco delle 70 ore, proprio delle due giornate, sono precipitate più di 400 mm di pioggia, che è un evento eccezionale. Considerate che nell'arco di un anno la media è di 600 mm, quindi una concentrazione estrema in un lasso di tempo molto breve. Associata al fatto che il nostro territorio di suo ha una condizione di debolezza, perché siamo dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico in un'area che fra l'altro è attenzionata dal dissesto idrogeologico. Quindi l'insieme di questi due dati ha portato allo stato alluvionale che abbiamo dovuto subire. Noi ci siamo immediatamente attivati, chiaramente come protezione civile, per cercare nell'immediato, così dice la norma fra l'altro, di dare il primo soccorso alla popolazione. Con le grandi difficoltà che abbiamo come struttura di protezione civile comunale, siamo riusciti, nei limiti del possibile, a dare l'assistenza a tutto il territorio. Nell'immediato abbiamo attivato un fondo che è di circa 150 mila euro, con fondi comunali, per andare a fare dei ripristini, delle sfangature, delle pulizie di carattere generale in tutto il territorio. Consideriamo pure il fatto che questo è il periodo dove le campagne vengono sfruttate per la raccolta delle olive e per tutto quello che sono le attività dell'agricoltura. Quindi siamo dovuti intervenire con grande difficoltà in quasi tutte le aree, quantomeno quelle più importanti, dove il traffico veicolare del comparto agricolo interessava l'asseviario comunale. Con le difficoltà che dicevo, siamo riusciti in linea di massima a soddisfare quasi tutte le esigenze. Parliamo chiaramente di liberare le strade da fango e detriti, perché poi la manutenzione stradale richiede ben altri fondi. Quello è proprio, il nostro compito era proprio quello, di mettere in sicurezza quelle tratte di strade comunali che erano state interessate alla sondazione dei torrenti, quindi con l'invasione delle strade di fango, di detriti che non permettevano il passaggio dei mezzi. Dopo di ciò si passa alla fase 2, che è quella della ricognizione delle aree e della conta dei danni. Noi siamo riusciti a fare un dettaglio molto puntuale di tutte quelle che sono le situazioni, andando a mettere su un importo complessivo di danni subiti che è di circa 26 milioni di euro. 25 milioni e 800 mila euro. Il tutto è stato trasmesso ovviamente alla protezione civile. Devo dire che noi abbiamo immediatamente avuto da parte della protezione civile l'attenzione dovuta. Inizialmente abbiamo avuto una protezione civile regionale, abbiamo avuto la presenza dell'ingegnere Cocina, dell'ingegnere Costa, che è responsabile provinciale. Si sono andati a visionare tutte quelle aree che hanno avuto un impatto maggiore, chiaramente, a cominciare dalla Foggia. Sono poi quelle nove negli anni. Sì, perché queste aree sono quelle dove sono ubicati le foci dei corsi d'acqua principali che attraversano il nostro territorio. Sappiamo bene che il nostro territorio è attraversato da diversi corsi d'acqua, dal San Marco al Foce di Mezzo, al Canzalamone, al Torrente Bagni, Carabollaceo, fino ad arrivare al Verdura. Quindi in tutte le aree noi abbiamo riscontrato delle criticità, che sono state puntualmente segnalate. Adesso, come giustamente le dice, qual è lo stato delle cose? È arrivato qualcosina di questi fondi? Al momento a noi personalmente non è arrivato nulla. Devo dire che la protezione civile nazionale è venuta a fare dei sopralluoghi a conferma del fatto che le nostre segnalazioni sono arrivate per andare a verificare, ovviamente, lo stato delle cose e la veridicità di quello che noi chiedevamo, perché l'importo è molto importante. Loro si sono resi conto della situazione e ovviamente hanno rimandato tutto a quello che sarà la determinazione del Consiglio dei Ministri, dove si andrà a, intanto, certificare lo stato di calamità che abbiamo subito e, di conseguenza, lo stanziamento dei fondi che devono essere spesi per ripristinare i luoghi e per evitare che nel futuro ci siano ulteriori problematiche di carattere alluvionale. Facciamo un po' il punto sulle varie situazioni, partendo dalla via Lido, che è quella, intanto, che riguarda famiglie che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ma poi si pone anche un problema di viabilità perché la strada è ancora chiusa al transito veicolare. Qual è la situazione della via Lido? Sulla via Lido abbiamo avuto due eventi particolarmente importanti. Uno è stato il ribaltamento di un muro di contenimento all'altezza del Civico 80, dove i privati, nell'immediato, hanno provveduto a mettere in sicurezza. Adesso stanno intervenendo per la realizzazione di un'infrastruttura che metta a riparo l'immobile nel lato ovest dello stesso immobile per quanto riguarda il terrapieno. E poi c'è una criticità a monte, sul versante che dalla via Lende si sviluppa verso sud, dove ci sono dei muri di contenimento che hanno una problematica che riguarda proprio il ribaltamento degli stessi. Su questa area noi, in tempi non sospetti, abbiamo dato l'incarico per una progettualità, per la sistemazione di questo versante. La progettualità è in fase di completamento. Parliamo del costone tra la perriera e la via Lido. Tra la via Lende e la via Lido. E' una causa ogni volta che piove il fiume di fango, ma anche di fogna. Ma più che altro è proprio il problema della sicurezza che riguarda gli immobili che ci sono a valle del versante. Proprio ieri io sono stato al Genio Civile per capire se era possibile. Noi siamo stati destinatari di un fondo di 500 mila euro, che ovviamente non è sufficiente per la sistemazione idraulica del versante, però potrebbe essere idoneo, quantomeno per la stabilizzazione del versante stesso. Io ho parlato con l'ingegnere Capo, ho avuto delle indicazioni in merito, e questa mattina avrò un incontro con il mio dirigente ai lavori pubblici e di protezione civile per eseguire una progettualità e un intervento nell'immediato per mettere in sicurezza quantomeno il versante rispetto agli immobili sottostanti. Per quanto riguarda invece l'altro immobile, quello... Aspetta, fermiamoci un attimo qui. La questione del costone non riguarda in parte pure AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini, per ciò che concerne tutta la situazione della vecchia rete fognaria che ormai non è più in grado di reggere la portata? Assolutamente. Diciamo che il problema è più pronunciato nella parte occidentale, sempre nella panoramica della Via Lende, a partire dall'angolo del Casalbergo per gli Anziani, per capirci, guardando sempre verso il versante. Là si estende in questo tratto il collettore fognario che raccoglie i reflui di questa zona della perriera. Questo collettore fognario, ovviamente, è dimensionato secondo le esigenze del periodo in cui è stato progettato, che non è più sufficiente per la raccolta sia dei reflui, ma soprattutto delle acque che provengono dalla raccolta, quindi delle acque superficiali. In questo caso AICA è interessata al problema. Loro già hanno previsto un intervento di sistemazione di questa conduttura fognaria. Purtroppo non ha più smesso di piovere da un mese a questa parte. Il sole è comparso da due giorni e quindi anche loro sono stati rallentati nell'eseguire l'intervento. Ma sarà un intervento risolutivo da questo punto di vista? Allora, questa è una domanda che dobbiamo porre a loro. Io credo che sia un intervento di riparazione al momento e che non è l'intervento risolutivo. Però diciamo che probabilmente questo tipo di intervento è quello che sarà a breve l'intervento sulla nuova realizzazione della rete fognaria, proprio sulla Via Lido, nella parte occidentale del nostro territorio, quindi Lido, Foggia, San Marco, potrebbe, dico potrebbe perché è un intervento che noi osserviamo e che spingiamo per la sua realizzazione, ma non siamo noi i progettisti dell'intervento. È un intervento del commissario straordinario sulle reti fognarie. Quindi io sono stato personalmente a parlare con loro per capire quale tipo di intervento stessero per realizzare. e se è possibile eventualmente adattarlo in qualche modo per risolvere una problematica che deve essere affrontata prima o poi, che riguarda la raccolta delle acque piovane della contrada perriera. Perché le condutture attualmente non sono in grado di smaltire in maniera regolare l'afflusso anche normale delle piogge che cadono su quel territorio. Lo sappiamo bene, l'abbiamo visto in questi anni, negli ultimi due anni, da quando io sono assessore, che quando inizia la pioggia, anche normale sulla contrada perriera, il collettore non riesce a smaltire l'afflusso che gli viene consegnato. Perché c'è un problema di dipensionamento, evidentemente. E quindi è una problematica che va affrontata tra AICA, che è il gestore, e la nuova realizzazione della condotta fognaria. Io devo dire che ho avuto molta attenzione da parte loro per quanto riguarda questa problematica. Ma AICA, vista anche la situazione economica in cui è iniziato la gestione del servizio idrico integrato e nelle condizioni economicamente di fare questi interventi, non solo l'intervento di manutenzione, di riparazione, ma quello risolutivo al quale facevamo riferimento. Io non lo so se sono in condizione al momento, perché è un'azienda che è partita da poco. Sono belli ma possono rimanere sulla carta. Assolutamente, è partita da poco. Io so che AICA gestirà la nuova rete idrica che interesserà il nostro territorio. Parliamo di un intervento di 35 milioni di euro sulla nuova rete idrica. È probabile che AICA faccia di tutto per intercettare i fondi del PNRR per quanto riguarda l'adeguamento della rete fognaria esistente. che non l'ho scoperto io, è di dominio pubblico. Parliamo di una rete fognaria che tranne la parte della Contra di Sabella, dove c'è il primo modulo del PARF, tutto il resto risale a condutture fognare di 40, 50, 70 anni fa, quindi ancora fatte con le canalette in cemento, che interessano tutto il nostro territorio. Ed è questa la motivazione per cui noi subiamo continuamente le cedimenti del mando stradale. Per cui siamo costretti, mio malgrado, per la sicurezza dei cittadini a transennare le aree. Non è una scusa che voglio porre, perché ovviamente ci sono anche dei cedimenti che non riguardano il collettore fognario e la rete idrica, ovviamente. Però diciamo che la maggior parte sono inutabili a questo. Con una buona percentuale di maggioranza... Alla via Lido, perché oltre alla questione di cui abbiamo parlato, c'è anche quella della viabilità delle altre famiglie che da un mese ormai circa hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Allora, per quanto riguarda la problematica del ribaltamento del muro al civico 5N o M, non ricordo bene, comunque 5 in ogni caso, dove c'è l'interruzione della viabilità, io so che il privato sta agendo di suo per la sistemazione della sua area di pertinenza. Poi ovviamente il privato, accompagnato anche da noi, perché noi abbiamo assolutamente a cuore le sorti del cittadino, quindi noi faremo di tutto per capire se è possibile che questi cittadini possano avere un ristoro da parte della protezione civile. Per capirci, della palazzina dove è frenato il muro di contenimento dove si è ribaltato il muro che si è andato a infrangere contro il fabbricato e dove c'era un'area che veniva utilizzata come parcheggio e dove c'erano delle automobili che sono andate giù rispetto all'asse stradale dove, fra l'altro, questa parte della sede stradale è di proprietà demaniale per una fascia, perché noi nel frattempo siamo andati a indagare il territorio. Sto dichiarano anche le competenze, quindi una parte è demaniale. C'è una fascia di un metro e mezzo circa che è di proprietà demaniale perché abbiamo fatto le visure per vedere l'appartenenza della particella. Quindi là in quel caso ovviamente il privato sta facendo di tutto per poter rientrare nel proprio immobile e quindi tutte quelle che sono le opere di ripristino, ma ciò non significa che noi, ed abbiamo segnalato ovviamente tra i danni subiti alla protezione civile, anche questa fascia del territorio. Poi c'è il discorso della sede stradale. Assessore, lei qualche settimana fa al nostro telegiornale ha dichiarato a proposito lì è un'area privata, devono sbrigarsela i privati. La dichiarazione ha addestato un po' di clamore anche perché sì, sarà pur vero che è privata, poi è da capire perché lei adesso faccia in nona parte demaniale. E però il privato che si è visto privare anche della possibilità di entrare nella propria casa, a prendere le cose necessarie, se non con l'ausilio dei vigili del fuoco e tutto, deve essere lasciato così. Voi li avete incontrate queste persone, avete comunque cercato di capire se si può contribuire, se si può intervenire in qualche modo, dare un sostegno. Allora, se io ho dato questa impressione nella mia intervista, ritengo opportuno chiarire che non era mia intenzione dire questo, certamente. che quella è un'area privata dove c'era allocato il muro, è certo. Un muro che fra l'altro, mi risulta, è stato realizzato con tutte le concessioni. Quindi parliamo di un immobile in regola e di un muro realizzato... Io penso che i proprietari di queste abitazioni abbiano comprato queste case con tutte le carte a posto. Assolutamente. Su questo non ci sono dubbi. che noi faremo il possibile perché questi cittadini possano avere ovviamente riconosciuto non da noi ma da la protezione civile un ristoro o una compartecipazione. Noi saremo al loro fianco per portare avanti le loro istanze. Non c'è dubbio. Noi di nostro certamente ci dovremo occupare di quella che è il ripristino della sede stradale. Su questo qua non ci piove. Perdonatevi l'utilizzo di piove. E cosa comporterà questo? Dovranno essere anche loro la parte dei maniari? Come si può superare la questione? Anche perché lì ci sono i privati che comunque hanno nominato dei loro tecnici e si sono rivolti anche ad un legale. Cioè la questione rischia di complicarsi ma perché ognuno ovviamente ritiene di avere le proprie ragioni. Più che complicarsi nel momento in cui verrà fuori che o il comune o la protezione civile che deve intervenire per finanziare i ripristini sarà interessata ad intervenire sui luoghi io credo che non ci siano problemi. Anzi ben venga la presenza dei tecnici di parte e del legale di parte. Ma avete fatto una riunione, un incontro anche per capire come procedere. Noi abbiamo fatto sì che ogni volta... Perché è un po' quello che hanno lamentato queste persone. Siamo stati proprio lasciati soli. Non c'è neanche un confronto con l'amministrazione per capire la situazione per poi muoversi tutti nella direzione. Allora io credo che non sia assolutamente così perché ogni qualvolta è venuta una visita da parte della protezione civile sia regionale, provinciale che nazionale uno dei punti che sono stati visionati è proprio questo. Quindi su questo aspetto mi sento di smentire il fatto che li abbiamo lasciati soli perché se li avessimo voluti lasciare soli non saremmo andati con gli organi preposti per andare a visionare i luoghi e per capire se sono oggetto di ristoro o meno. Quindi su questo qua io assolutamente credo che non sia questo. Senta, la questione della viabilità della strada come si risolve? Voi avete parlato ultimamente di una soluzione tampone, alternativa un percorso che possa consentire la viabilità in via Lido che è stata subito bocciata diciamo così dal comitato di zona che ha suggerito piuttosto anziché cercare soluzioni alternative tampone, bretelle ed altro si intervenga sulla via Isola Ferdinandea che tra l'altro versa in condizioni da anni in condizioni disastrose raggiungiamo il duplice obiettivo cioè abbiamo il percorso alternativo e sistemiamo un'arteria della città che ha pure diritto a essere degna di essere chiamata strada. Allora, sull'ultima sua considerazione mi trovo assolutamente d'accordo è una strada che merita l'attenzione e che merita degli interventi su questo non c'è dubbio tutto però si deve andare ad inquadrare all'interno delle possibilità economiche che ha l'ente per poter fare le opere e per questo motivo i nostri uffici quindi il nostro dirigente sta valutando sia il ripristino con la soluzione sulle problematiche della via Ferdinandea per l'utilizzo della stessa sia un percorso alternativo che intanto permetterebbe l'alleggerimento del traffico che è tutto caricato al momento sulla contrada perriera con i disagi Ma qual è questo percorso alternativo? Allora, noi abbiamo visto e allora ovviamente ci siamo accorti della presenza di quella fascia di appartenenza al demanio sul versante sud della strada quindi abbiamo fatto una verifica per capire chi sono i proprietari dei terreni adiacenti alla strada intanto c'è una fascia di rispetto che è di appartenenza pubblica che è di circa un metro verso monte e poi sono state individuate due particelle con due diversi proprietari che permetterebbero se ci daranno ovviamente la possibilità di utilizzare una fascia di questo terreno di realizzare un bypass di circa 50 metri per permettere il transito delle automobili con un costo irrisorio rispetto a quello che è il risultato stiamo parlando di qualche 5-10 mila euro per poter ripristinare il traffico ma ciò non toglie Ma la disponibilità dai privati l'avete già tenuta? Questa la stiamo verificando la stiamo verificando perché ovviamente intanto sono stati individuati poi bisogna intavolare un discorso con loro perché bisogna vedere se loro sono disponibili e qual è il costo per questa loro disponibilità ma ciò non esclude assolutamente la valutazione sul ripristino della via Ferdinandea e l'utilizzo della stessa bisogna tener conto ovviamente che la decisione per utilizzare la via Ferdinandea per rimetterci il traffico cittadino a doppio senso di marcia ovviamente debba tener conto del parere di chi gestisce la viabilità del nostro territorio cioè dire i vigili urbani nella persona del comandante e del personale preposto quindi è un po' semplicistico dire fate questo e non fate l'altro bisogna mettere sul tavolo tutti gli aspetti che comportano il riutilizzo o l'utilizzo per 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 smistrare il traffico in quella zona perché altrimenti però assessore il cittadino dice si va bene è giusto valutare tutto però bisogna concretizzare anche perché la cosa che ci si chiede noi siamo a dicembre ci avviamo poi dopo l'inverno alla primavera quella è una zona fondamentale cioè la chiusura di via Lido in primavera e estate sarebbe il disastro ma di fatti non sarà chiusa la via Lido in primavera e estate e quando noi stiamo lavorando quotidianamente realisticamente assessore perché i tempi poi realisticamente è considerando l'aspetto economico che non è secondario l'aspetto economico è fondamentale cioè io posso proporre di fare l'autostrada ma se poi non hai foto ma bisogna avere il denaro per fare l'autostrada quindi non escludendo nessuna possibilità perché noi non siamo i depositari di tutte le verità o di tutte le soluzioni che non sono che riteniamo inattaccabili non è così l'abbiamo dimostrato molte volte quindi realisticamente quando questa noi stiamo lavorando la tempistica l'ha detto gli uffici e la dotazione finanziaria noi abbiamo approvato il bilancio in giunta verosimilmente entro il 20 avremo il bilancio approvato anche dal commissario quindi da quel momento in poi si vedrà quali sono le economie disponibili e si sceglierà un percorso anziché un altro o contemporaneamente entrambi i percorsi perché io non mi sento di escludermi lei ha già quantificato quanto potrebbe essere necessario per ripristinare condizioni normali di transitabilità in via Isola Fiertinandea cioè quanto verrebbe a costare noi non abbiamo stimato ancora il costo perché parliamo di un'arteria molto molto estesa e molto messa male con molte problematiche con molte problematiche quindi io sono abituato a parlare con i numeri nel momento in cui ci saranno dei computimetrici che ci diranno quanto costa l'opera sia del ripristino per il transito normale che per un transito sostenuto che è quello come giustamente diceva lei andando a sostituire questa tratta della via Lido va bene ovviamente dobbiamo mettere in condizione quella strada di poter subire il traffico intenso che viene percorso anche perché noi abbiamo sempre la vicenda del ponte Cansalamone chiuso facciamo anche il punto su questo benedetto via Dotto Cansalamone io volevo anche concludere il discorso della via Lido perché l'utilizzo della via Ferdinandea ovviamente manterrebbe la strada chiusa al transito fino al punto dove sia stato il ribaltamento del muro con le problematiche che devono subire i cittadini perché arrivano con una strada chiusa e quindi per tornare indietro devono fare l'inversione Audu e quindi non è che diciamo rendere percorribile la via Ferdinandea finisce chiude la problematica della via Lido anche se andrà sistemata assolutamente comunque la via Lido quindi avere entrambe le possibilità sarebbe diciamo l'ideale perché intanto sulla via Lido ci sarebbe la percorribilità a doppio senso di marcia pur se con il bypass e la via Ferdinandea con dei ripristini magari leggeri potrebbe essere resa percorribile alleggerendo ancora il traffico sia della via Lido che della perriera è riutilizzato la stessa anche perché facevo cenno Ponte Canzalamone è sempre chiuso al momento il Ponte Canzalamone è chiuso al momento anche per i prossimi anni non abbiamo più notizie ormai non avete più penso che nessuno debba azzardare previsioni non avete più notizie perché nel frattempo la la società ingegneristica incaricata per l'intervento di progettazione esecutiva dopo i mille sopralluoghi effettuati e verifiche e sondaggi eccetera e non solo sopralluoghi va bene io ho avuto modo di sentirli la settimana scorsa perché io li sento settimanalmente sull'evoluzione mi hanno comunicato che loro hanno completato la progettazione e che in tempi inferiori rispetto a quelli che gli erano stati dati presenteranno il progetto esecutivo alla struttura commissariale progetto esecutivo che rientra nell'ordine della spesa del finanziamento previsto e che prevede cosa? prevede la sistemazione delle campate che hanno delle problematiche per quanto riguarda lo scorrimento delle stesse e la sistemazione della strada che tornerà ad essere utilizzata a doppio senso di marcia quindi quindi non più la soluzione tampone del senso unico alternato assolutamente loro stanno presentando il progetto esecutivo che rientra all'interno delle somme disponibili e ripeto loro mi dicono ufficiosamente entro Natale presenteranno il progetto esecutivo al commissario il quale commissario poi ovviamente indirà la gara per l'esecuzione dei lavori quale sarà la tempistica per l'esecuzione dei lavori quello là è compito nostro andare a sollecitare visti anche i precedenti della zona e i tempi della gara d'appalto ad esempio penso delle case popolari di Ribera una nostra tranquilla speriamo però diciamo che adesso siamo certi che c'è un progetto esecutivo almeno abbiamo capito come si interverrà loro hanno chiaramente fatto delle verifiche sui materiali le quali verifiche mi dicono sono soddisfacenti anche in funzione dell'età del manufatto e quindi molto probabilmente già dall'inizio dell'anno sarà espletata la gara per l'esecuzione dell'intervento si capisce già quali saranno i tempi poi di realizzazione di questo intervento io non conosco la soluzione che loro hanno posto la saprò nel momento in cui verrà ufficializzata la presentazione del progetto alla struttura commissariale e ovviamente come in tutti i progetti esecutivi cantierabili c'è dato anche il timing di esecuzione quindi da là noi vedremo cosa hanno previsto e quali sono i tempi di realizzazione della stessa la cosa importante mi pare di capire è che comunque questo progetto è compatibile con i fondi ottenuti cioè non abbiamo necessità di richiedere altre somme così mi è stato accennato sempre ufficiosamente e noi abbiamo il compito adesso di andare a verificare che questo qua risponda al vero e sarà quello che io di cui mi occuperò nel prossimo futuro spostiamoci un po' più avanti altra località che ha subito ingenti danni a causa del maltempo è la località Foggia lo abbiamo visto negli anni 90 si è ripetuto recentemente anche lì tante famiglie che hanno perso tutto hanno visto proprio i propri immobili diverti hanno perso tutti gli arredi insomma elettrodomestici in alcuni casi hanno dovuto lasciare l'abitazione c'è un senso anche di insicurezza che comincia ad emergere si è intervenuti per dare i primi sostegni insomma avete fatto in modo che queste famiglie per le prime giornate fossero supportate però poi che cosa succede in quella zona come si mette in sicurezza questa località allora la problematica della contrada foggia io intanto mi associo al suo pensiero per quanto riguarda lo stato in cui sono stati costretti i nostri concittadini noi siamo stati abbiamo fatto il possibile nell'immediato so che delle associazioni stanno provvedendo anche a dare dei piccolissimi ristori per questo io veramente do merito a queste associazioni che con grande partecipazione la realtà del volontariato è stupenda Sciacca tante associazioni in tutto in tutto questo mi non voglio ovviamente eludere la sua domanda mi permette di ringraziare sia il nostro ufficio di protezione civile che con veramente un numero di unità quasi inesistente parliamo di due tre unità hanno dato il massimo per poterle aiutare però quello che è stato fatto dalle associazioni di protezione civile parlo dei vigili del fuoco in congedo parlo dell'associazione della guardia costiera in congedo hanno davvero dato un supporto fondamentale perché questi nostri concittadini non fossero stati abbandonati a se stesso noi abbiamo visto delle scene drammatiche siamo stati presenti sia io vice sindaco tutti gli assessori ognuno per la sua competenza per cercare di dare un supporto alla popolazione però quello che hanno fatto davvero le associazioni è inestimabile e io non finirò mai di ringraziarli la situazione ovviamente è identica a tutte le altre il comune farà di tutto e fa di tutto tuttora sollecitando continuamente la protezione civile perché questi danni subiti possono essere ristorati e possono avere un riconoscimento da parte dello Stato perché tutto dipende ovviamente da quello che andrà a deliberare il consiglio dei ministri in merito alla nostra situazione di alluvione Assessore lei sa bene che il cittadino ha visto anche i precedenti cioè c'è gente che ancora aspetta i ristori del 2016 ma io non posso negarlo questo qua chiaramente però noi siamo per forza legati a questa situazione io non so cosa è accaduto nel passato oggi io le posso dire che la stima dei danni su tutte le aree del nostro territorio è stata fatta in maniera puntigliosa fra le altre cose è verificabile con i nostri uffici che tipo di intervento è previsto per la località Foggia di questa ricognizione che voi avete fatto che è portata alla fine ad una richiesta di 25 milioni di euro noi abbiamo chiesto intanto di mettere in sicurezza i due costi d'acqua che arrivano da lì che arriva il problema sì i due costi d'acqua che sono il San Marco che è esondato sulla Foggia intendendo Foggia la parte della zona dove sono stati realizzati gli immobili mentre il foce di mezzo ha interessato la parte est quindi l'ingresso dalla via Rido per capirci con una forte erosione della sponda della foce del foce di mezzo perdonate del bisticcio io so che già nell'immediato già la protezione civile ha previsto qualcosa per la sistemazione della foce credo un intervento di piccola entità intorno alle 100 mila euro proprio nell'immediato considerate comunque che il costo d'acqua a foce di mezzo l'anno scorso 2020 ha avuto per fortuna un intervento di risagomatura e sistemazione della parte terminale dello stesso corso d'acqua che ha limitato moltissimi danni rispetto a quello che poteva accadere qualora non fossero state fatte queste opere è chiaro che non sono state sufficienti perché altrimenti non c'erano i danni però già quell'intervento fra l'altro realizzato dal genere civile ha mitigato moltissimo il danno da quella parte mentre sul San Marco dove non è stato fatto nessun tipo di intervento c'è stato il disastro per quanto riguarda proprio il centro abitato Foggia quindi noi abbiamo chiesto di intervenire sulla sistemazione di questo corso d'acqua nella parte terminale quindi con la pulizia e la risagomatura perché pur ribadendo il fatto che la quantità di acqua che è arrivata e quindi l'ingrossamento del corso d'acqua è stato eccezionale e quindi come è accaduto per il Foggia di Mezzo magari si poteva soltanto mitigare il danno che già insomma era qualcosa di importante chiaramente perché io nei sopralluoghi ho visto immobili che hanno avuto un metro e ottanta di acqua all'interno cioè si è rischiato la tragedia al di là dei danni c'è stato veramente siamo stati veramente fortunati che moltissime delle abitazioni non erano abitate in quel momento o che chi c'era ha capito in tempo che doveva o che non erano presenti all'interno dell'immobile in quel momento quindi o sono riusciti insomma a capire lo stato di pericolo si sono allontanati immediatamente perché altrimenti la tragedia sarebbe stata certa con quell'area quindi le chiedevo di questi 25 milioni di euro quale parte riguarda proprio la messa in sicurezza della località Foggia anche per dare una risposta definitiva lei diceva in parte siamo riusciti con gli interventi ad effettuare a contenere però questa è una situazione si trascina da decenni chiaramente tutto quello che noi abbiamo previsto è la sistemazione delle aree pubbliche ok per quanto riguarda invece le aree private sono state debitamente segnalate con anche dei report fotografici che noi abbiamo prodotto ma tutto verrà ristorato a ogni singolo privato questo qua insomma è da chiarire fra altre cose molti a noi chiaramente ci chiedono cosa fare cioè il privato ci chiede cosa devo fare io per essere ristorato ovviamente noi abbiamo detto che nell'immediato venga tutto diciamo fotografato non nel termine dell'immagine fotografica ma cristallizzato al momento dell'evento catastrofico andando a stimare quello che è il danno subito in modo che quando ci sarà il riconoscimento dello Stato di calamità che abbiamo subito da parte dell'organo centrale che è il ministero commissario nazionale il consiglio dei ministri in quel momento verrà aperto quello che è insomma verrà aperta la modalità di richiesta ci verrà fornita la modulistica che noi ovviamente metteremo a disposizione del cittadino e che ci faremo carico di trasmettere agli organi competenti però oggi il cittadino deve essere pronto a sapere già qual è il danno che ha subito per poter richiedere chiaramente il ristoro passiamo ad un'altra località che con il mal tempo si la situazione si è gravata ma lì è già critica da anni e la pioggia c'entra fino a un certo punto San Marco non solo la strada che ormai da tempo da anni diciamo che non è più in dirado di reggere l'intenso traffico ma lì è un'altra vicenda la questione riguarda soprattutto le strade di accesso al mare è precipitata la situazione per alcune arterie ma ce ne sono altre che da anni anche con l'amministrazione Valenti sono passati ormai quasi cinque anni e sono rimaste tale quali non si è riusciti a ripristinare la viabilità consentire un accesso ad una a quella che è la località turistica per eccellenza della città di Schatt diciamo che è la parte del territorio che viene preferita dai residenti perché le località turistiche a Schatt sono estese perché poi tutti i turisti che alloggiano nei B&B del centro storico eccetera e che quindi hanno la macchina a San Marco una puntatina ce la fanno diciamo che è una zona non è solo un problema dei residenti o dei sarciensi io non lo voglio porre come non voglio sminuire ecco l'area perché viene frequentata da un certo target di cittadinanza rispetto ad un altro assolutamente io volevo solo dire che tutto il nostro territorio per fortuna nostra viene diciamo utilizzato nel periodo estivo parliamo della località San Giorgio possiamo fare un parallelo che anche a San Giorgio in 5 anni non è cambiato niente sì diciamo che mettiamo assieme San Giorgio e San Marco così abbiamo tutto il panorama mi permetto di eccepire su San Giorgio noi stiamo acquisendo un progetto esecutivo per la sistemazione dell'asse viario di tutta San Giorgio noi abbiamo fatto abbiamo avuto un finanziamento dal Ministero degli Interni per quanto riguarda due progettualità noi l'abbiamo chiesto per tre ce l'hanno finanziato solo per due una è San Giorgio e l'altra è il versante di cui parlavamo all'inizio per cui siamo in attesa che ci venga consegnato il progetto esecutivo quindi anche su San Giorgio non abbiamo fatto opere siamo ancora alla fase della progettazione però noi almeno io parlo di me da quando ci sono io abbiamo chiesto e ottenuto un fondo per un finanziamento su San Giorgio per la sistemazione dell'asse viario anche in virtù del fatto che quell'area è interessata dal dissesto idrogeologico e quindi era un presupposto per avere il fondo di progettazione sulla zona San Marco in merito ad una vicenda che va avanti da parecchi anni noi abbiamo fatto realizzare un progetto esecutivo per quanto riguarda la sistemazione della via dei Sicani è un'area che ha subito una frana da almeno sette 8 anni e che questa amministrazione ha portato a termine quindi un progetto esecutivo adesso è stato ovviamente acquisito approvato dall'amministrazione e adesso questo progetto verrà trasmesso alla struttura commissariale per il dissesto idrogeologico per avere il finanziamento con un importo di un paio di milioni di euro 2 milioni e qualcosa l'importo preciso non lo ricordo quindi una progettualità su quella era stata fatta se lei poi si riferisce alla problematica della via Ulisse quindi quella strada che dà l'accesso al mare nella zona dove sono presenti gli stabilimenti balneari fra l'altro questa strada mi risulta non essere stata mai ceduta al comune e appartiene per lunghi tratti se non tutto addirittura ai privati noi interveniamo ogni anno in maniera diciamo surrettizia perché perché è una strada che ovviamente viene utilizzata dalla come si dice è una strada privata a uso pubblico da tutti ok quindi ogni anno si fa uno sforzo economico non eccezionale devo dire per fare il ripristino della stessa lei dice sono sempre interventi tampone ma è possibile che nessuna amministrazione e anche l'amministrazione Valenti riesca in 5 anni a risolvere la questione perché non è solo la via di Sicani o la via Ulisse è tutta quella viabilità cioè a un certo punto ci si chiede e passano i primi 5 anni di una mia e passano anche i 5 anni e siamo ancora alla fase della progettazione cioè noi siamo contenti che già abbiamo un progetto e vabbè però senza il progetto senza la programmazione siccome noi non parliamo di interventi di di piccola manutenzione lo capisco 10, 20, 30 mila euro per risolvere il problema del cedimento che c'è nella discesa per accedere alla via di Ulisse per capirci va fatto un intervento di sistemazione con parificazioni dell'intero versante che guarda sul mare che non è un intervento che si può realizzare con le risorse che sono presenti nel bilancio comunale se non c'è il progetto esecutivo per poter fare l'intervento nessun ente ci andrà mai a finanziare ma questo almeno oggi per quanto riguarda questa è una città che non sa progettare che non ha saputo progettare negli anni io non lo so se non ha saputo progettare negli anni io posso dirle cosa ho fatto io cosa ha fatto questa amministrazione negli ultimi due anni noi ci siamo sforzati e l'intervento proprio della via dei Sicani viene fuori da che cosa da un fondo di rotazione per la progettazione che ha messo su questa amministrazione che fra l'altro fondi che vengono da un mutuo va bene quindi io chiaramente non è non è stato sufficiente per la risoluzione di tutte le problematiche che ci sono però è un inizio è un modo di affrontare il problema fra le altre cose proprio perché i soldi presi per la progettazione vengono fuori dal fondo di rotazione nel momento in cui l'opera verrà finanziata il finanziamento della progettazione tornerà a disposizione dell'amministrazione che sarà in carica per poter fare dell'altra progettazione io mi rendo conto che lei chiacchiere queste qua possono sembrare chiacchiere all'utente va bene perché fino a quando non si vede l'opera realizzata sono tutte cose che possono sembrare sulla carta appunto bellissime assolutamente però io penso almeno questo è il mio modo di fare che fino a quando non c'è una mutazione di approccio e se non c'è una progettazione esecutiva non si può sperare che nessuno ti porti il denaro se non li chiami e non presenti i progetti a chiedere possiamo chiedere tutto a presentare progetti che tra l'altro vengono approvati quando un ente deve finanziarti oggi ti chiede progetto esecutivo cantierabile se non ha queste tre caratteristiche quindi progettualità esecutività e cantierabilità non ci sono enti che ti danno il denaro senta facciamo un flash anche sulla situazione nelle campagne siamo messi meglio io mi permetto di introdurre invece un'altra situazione molto particolare che è motivo di grande preoccupazione per me e riguarda l'attraversamento che si trova al Ponticello Baiata per capirci per andare a Raganella e l'attraversamento Tummiolo questi due attraversamenti che noi abbiamo con forza segnalata alla protezione civile che sono altri due punti molto critici quantomeno per far sì che venga fatto anche l'intervento provisionale per far attraversare il cittadino sono molto importanti perché in queste due aree Raganella Tummiolo chiamiamolo così Raganella da un lato con tutto quello che comporta e Tummiolo quindi Carbone come contrario noi parliamo di benne perché abbiamo chiesto ai rappresentanti dei comitati quale fosse il numero degli abitanti che insistono dei residenti addirittura e stiamo parlando di 2500 abitanti residenti per ogni area e soprattutto parliamo anche di presenza di ragazzi che per raggiungere la scuola o per andare in centro sono costretti al momento per quanto riguarda Raganella ad attraversare la statale questo per me è un motivo di grande preoccupazione e che a parte non mi fa dormire tranquillo innanzitutto e che non mi fermerà davanti a nulla perché venga ripristinato nel più breve tempo possibile intanto il passaggio e poi l'intervento ma può intervenire l'amministrazione per queste due situazioni o anche noi siamo legati a una progetto noi non lo escludiamo noi non lo escludiamo perché i tempi di attesa che noi ci siamo dati sono quelli che ci ha dettato la protezione civile perché nell'immediato noi abbiamo fatto tramite PEC fra l'altro quindi con un riscontro ufficiale una richiesta di un fondo di 120 mila euro per i ripristini provvisionari di tutte e due le aree di queste due di questa richiesta ancora noi non abbiamo nessuna notizia devo dire per correttezza che abbiamo avuto un'interlocuzione con l'ingegnere Cocina e in settimana con il dirigente sarò presente presso il suo ufficio per sapere a che punto è l'erogazione di questo finanziamento immediato però ribadisco qualora qualora non ci sia una risposta a breve io non escludo che noi possiamo intervenire andando a cercare il denaro ovunque ovunque fra le altre cose proprio e questo mi fa molto piacere dirlo il comitato Raganella nella persona del suo presidente addirittura ci ha detto che erano disponibili a fare una autotassazione per aiutarci a fare l'intervento anche perché non si tratta solo di cittadini privati ma anche di aziende assolutamente e questo è uno dei motivi che mi spinge a dare veramente il massimo per la mia città perché come per il periodo del lockdown dove ci sono state delle aziende che si sono messe a disposizione per fornire sostegno per fornire alimentari per dare aiuto alla città anche in questo caso io ho visto che il cittadino nel suo complesso a parte a volte le giuste critiche va bene ha dato prova di essere pronto anche di avere davvero a cuore le sorti le chiedo dobbiamo essere un po' più veloci perché ho ancora altro da chiederle per queste cose io ci tengo no no lo so ma ho ancora altro un breve cenno quindi alla situazione da località Nadori a tante altre arterie rurali noi siamo intervenuti quasi ovunque ovunque per ripulire liberare lei deve sapere che nelle 150 mila euro intanto partiamo dall'inizio noi fin dal dall'indomani dal 12 abbiamo contrattualizzato 5 aziende quindi di movimenti terra per dare un'aiuto alla popolazione l'importo complessivo che abbiamo speso nel totale è di circa 150 mila euro con fondi comunali e in un momento veramente gravissimo che ha il comune per quanto riguarda le risorse non è stato uno sforzo da poco purtroppo la stragrande maggioranza degli interventi fatti nell'immediato in considerazione del fatto che non ha più smesso di piovere fino a sabato ha piovuto ci ha costretti ha determinato anzi che molti degli interventi sono stati persi praticamente perché il fango si è riversato di nuovo nuovamente devo dire che le aziende che abbiamo contattato e che ci hanno dato questo servizio non hanno guardato quello che loro hanno realizzato e che non potevano più fare perché avevano completato il loro budget si sono adoperate anche oltre quello che era il riconoscimento economico che noi gli abbiamo dato quindi davvero io li ringrazio per questo ma non c'era un mutuo per le arterie rurali da decenni se ne parla un finanziamento no decenni dal 2019 era stato prima bocciato il mutuo ultimo sulle arterie rurali mi ricordo c'era la richiesta di finanziamento sulla località Nadore quella è un'altra vicenda che adesso io ne parlo anche qua le opere che noi abbiamo già appaltato per quanto riguarda il finanziamento del mutuo e quindi le state urbane quindi via Lido via Aldomoro e via Marco Polo le strade extraurbane quindi quelle rurali hanno dovuto per forza subire un rallentamento anche se devo dire che alcune sono state completate parlo proprio di quella di Raganella quindi con l'intervento eseguito e quella che riguarda la via Poio dove c'era un cedimento che è stato insomma sistemato ce ne sono altre sette interventi sulle strade rurali che noi abbiamo previsto per quanto riguarda invece la contrada Nadore che noi abbiamo con le economie dell'alluvione sistemato per poter far accedere i cittadini che avevano i terreni in quell'area è una zona molto frequentata tra l'altro noi abbiamo avuto notizie da qualche settimana che il nostro progetto che era stato accolto positivamente ma non finanziato quindi aveva avuto era ingreditoria però non era rientrato tra gli eventi di diritto al finanziamento è stato per scorrimento portato a finanziamento la pratica si trova presso l'ufficio territoriale di Cammarata noi abbiamo interlocuzioni quotidiane con loro perché servivano chiaramente hanno fatto dei rilievi di carattere burocratico chiaramente che sono state immediatamente presentate tutte quante le richieste e quindi questo intervento di 500 mila euro a breve verrà la luce è stato finanziato mutui quindi siamo già i mutui noi abbiamo appaltato tutto quindi devono solo iniziare assolutamente devono essere completati gli interventi per quanto riguarda le state rurali per quanto riguarda le state urbane avevano iniziato sulla via Aldomoro dove nella parte alta dove c'è un cedimento dettato dal fatto che la conduttura idrica Favala di Burgio in quel punto aveva avuto una rottura e quindi aveva creato il dilamamento del sottofondo e quindi si sta procedendo al ripristino del sottofondo e poi chiaramente verrà fatta la scarificatura di tutta la strada e la collocazione del nuovo manto stradale in aggiunta nelle aree dove ci sono i fossati laterali verranno allocati dei catarifrangenti per la segnalazione finalmente di questo pericolo che il cittadino ha dovuto subire Senta brevemente Via Ghezzi e Ponte Banni semaforo oppure collocato da tempo quando loro da quest'estate là purtroppo guardi se un minuto poi le devo dire quello che è accaduto da due anni a questa parte per non dire quello che è accaduto prima e tutte le difficoltà che abbiamo dovuto subire Assessore è una città difficile lo devono sapere tutti però diciamo che la fortuna non è stata benevola nei confronti della città non dei confronti della no non si interviene per tanti anni e poi i nodi prima o poi vengono al pettino dico non dei confronti dell'amministrazione perché chi amministra deve mettere in conto che può accadere tutto ma una è diciamo un continuo di eventi disastrosi Ponte e Bagni Allora il Ponte e Bagni noi abbiamo stimato l'intervento in circa 60 mila euro il fondo è stato messo a riparo da qualunque tipo di è stato messo di lato per essere utilizzato sul Ponte e Bagni a giorni verrà incaricata la ditta quindi daremo già l'appalto verranno realizzate le nuove barriere da tutte e due lati l'intervento non prevede la chiusura dell'arteria quindi si si lavorerà si continuerà a transitare con il semaforo che disciplina la via B al momento la strada ha subito anche per le piogge il ribaltamento di un muro a secco nella parte prossima all'incrocio con la via Aldomoro devo dire che davvero siamo stati i miei uffici sono stati davvero eccellenti perché nell'arco di poche ore c'erano giorni o mesi in poche ore si è intervenuti per la messa in sicurezza e per la riapertura della strada per fortuna il ribaltamento del muro non ha causato dei danni a cose e persone perché è stato completato questo intervento quando sarà consentito il transito di nuove ad esempio i mezzi pesanti mi pare che gli autobus facciano capolini al momento abbiamo dovuto spostare perché c'erano dei cedimenti della scarpata e siamo intervenuti per la sistemazione e poi ci sono delle fratture lungo l'asse stradale che sono dovute al fatto che c'è questo cedimento della scarpata adesso fra altre cose io ho inserito nel piano ordinario delle opere pubbliche un intervento di sistemazione di tutta la via Ghezzi di questo tratto e del tratto che c'è dopo il sottopassaggio che porta alla via Marco Polo quindi le dicevo il problema al momento della chiusura al transito nella in discesa e al mattino soprattutto è dovuto al fatto che la pulizia straordinaria che noi abbiamo fatto per riportare le acque all'interno di pozzetti che erano previsti e che erano intasati e non venivano più utilizzati ha fatto emergere che ci sono degli alberi molto pericolosi in area privata che stanno per essere eliminati per poter mettere in sicurezza la strada quindi a brevissimo la strada verrà resa percorribile di nuovo ai mezzi pesanti e quindi i pulmoni torneranno nella loro sede nella zona delle terme siamo in conclusione però io un flash sulla politica glielo devo chiedere lei lo sai che ha scadenza fra cinque mesi non vuole parlare dell'intervento che verrà fatto sul teatro Samonà teatro Samonà se riesce proprio a giorni verrà appaltato l'opera questa è una buona notizia magari ne partiamo nel giornale in maniera più profondita la notizia non è che viene appaltata l'opera perché è il genio civile che appalta la notizia invece è che noi stiamo chiedendo tramite il nostro assessore allo spettacolo e ai eventi insomma culturali che ci riguardano chiederà a nome dell'amministrazione l'utilizzo della struttura quindi questa questa richiesta ha già generato qualche commento non proprio positivo però io credo che avere una struttura che viene rifunzionalizzata quindi resa di nuovo utilizzabile fra le altre cose così senza nessuna polemica contro nessuno perché non faccio mai polemiche e mi occupo di quello che faccio io un teatro che vedrà la che a cui verrà consentito che i reflui vanno in fognatura perché al momento il teatro Samonà non ha l'allaccio fognario con questo intervento del genio civile dove noi siamo stati attori protagonisti perché noi abbiamo chiesto delle cose che venivano fatte la prima cosa che abbiamo chiesto è che il teatro possa avere l'allaccio fognario che è un atto di il minimo nella gestione poi parlo con il suo collega con il mio collega assessore Caracappa che è molto più informato di me entrambi siete a scadenza tutta l'amministrazione a scadenza ma il sindaco almeno a voi ha comunicato la decisione ufficiale su una ricandidatura o meno il sindaco che ha tutta la mia stima ovviamente la mia gratitudine per avermi coinvolto in questa vicenda avrà modo avrà modo lei di comunicare voi la sua decisione la conoscete però allora non mi dica questo a voi l'avrà comunicato io non lo so cosa farà il sindaco io non so cosa farà il sindaco e cosa farà e cosa farà Roberto L'Occicero comunque alle amministrative del 2022 io dico sempre alle persone che mi stanno vicine che io avevo un progetto di vita che ho interrotto per dare la mia disponibilità alla comunità dove io vivo e dove sono orgoglioso di vivere e alla città che io amo profondamente ma è stata una disponibilità a tempo o poi si può trasformare a tempo indeterminato o almeno per altri cinque anni io non metto limiti a nulla però ribadisco che io ho un mio progetto di vita e intendo riprenderlo poi quello che accadrà a breve perché parliamo di poche settimane qualcuno mi prende un buon giro perché io dico sempre mancano 24 25 26 settimane quasi che io non vedo l'ora che finisca in fondo probabilmente è pure così però secondo me le è anche piaciuta questa esperienza io sono molto contento di aver fatto questa esperienza quindi nulla esclude che possa mi ha dato tantissimo mi ha dato veramente tanto io sono orgoglioso di essere cittadino saccense rammaricato per non aver potuto dare di più rispetto a quello che la città merita rammaricato davvero perché le cose da fare sono davvero tantissime tantissime ma se ora c'è tempo non si preguda però nulla le vieta di continuare a misurarsi con questa realtà però consegnare una città in uno stato migliore era il mio obiettivo vedremo alla fine cosa riuscirò a fare però c'è davvero tanto da fare per questa città è una città che merita tantissimo e io fra l'altro non sono nemmeno scontento delle critiche mi capita di leggere qualunque cosa e non mi si deve mettere in conto ma io non mi offendo assolutamente perché penso che è giusto così molto probabilmente qualcuno ha anche ragione qualche critica è anche giusta io vorrei che ci fosse lo spirito della collaborazione che porti la città la nostra città accogliere più gente a far venire più gente perché è una città che merita tanto c'è bisogno di entusiasmo di generare nuova entusiasmo io ne ho tanto grazie intanto assessore per aver partecipato alla trasmissione grazie a voi per averci seguito appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti